buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale questa mattina faccio una recensione su questo clarinetto da studio starton scl 25 arrivo subito dopo l'intro di solito le persone mi scrivono mi dicono ma che clarinetto devo prendere per iniziare non vorrei neanche spendere tanto allora io di solito vado sempre su questo modellino starton che è uno strumento a mio avviso bello ha un costo molto accessibile perché 129 euro il corpo è fatto in abs a 17 chiavi 6 anelli e le chiavi sono nichelate viene fornito con una bella custodia molto smart e facile da trasportare e con un bocchino in dotazione che io di solito consiglio di cambiare con uno yamaka 4 o 5c adesso però andiamo a sentire come suona un po' un po' un po' un po' un po' il vendo un po' un po' un po' da un po' un po' di un po' che Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ciao.